A confronto elettorale aperto, Alba Dattica decide di non cambiare, di dare fiducia alla caccia. Sì, abbiamo messo in campo tutte le esperienze possibili, non abbiamo nulla da rimproverarci. Devo ringraziare l'associazione civica Siamo Alba perché ha iniziato un lavoro un anno e mezzo fa. Poi io ho sposato in corsa questo progetto nella speranza che davvero potesse dare i frutti alla città. Ho messo in campo delle professionalità, ho messo in campo delle persone che hanno deciso di mettersi in gioco. Perché nella loro vita professionale hanno dato tanto e anche loro insieme a me credevano che questo progetto potesse dare i frutti alla città. Perché noi vedevamo comunque una città, una città ferma, una città che avesse bisogno di una spinta, di forse anche una voglia di rinnovamento. Così non è stato, le urne hanno chiaramente decretato di voler conservare quello che hanno. E quindi probabilmente, no, non probabilmente, sicuramente hanno dato ragione all'attuale amministrazione. Quindi un po' di opposizione sarà la sua? Sarà sicuramente un'opposizione leale, un'opposizione che non lascerà nulla di intentato, un'opposizione presente, un'opposizione sicuramente presente.